Allora ragazzi, se siete milanesi come me, è inevitabile che almeno una volta non siate andati ai piani di Bobbio a sciare. I piani di Bobbio sono un pochino le montagne dei milanesi, o meglio, sono le montagne più aggredite dai milanesi quando magari non hanno il tempo di andare a Bomi o a Di Viglio, e allora si gettano direttamente sui piani perché i piani offrono un'alternativa a stretto giro dalla grande metropoli. Da casa mia i piani di Bobbio distano una trentina di minuti, la direzione è quella là, là in fondo c'è il resegone, ovviamente non parlo del resegone, parlo della Valsassina, parlo di appunto i piani di Bobbio e quando si va ai piani di Bobbio c'è un posto, un unico posto, dove tutti tendenzialmente si fermano, dove almeno una volta si sono fermati, dove dopo essersi fermati con l'unica volta se non sono tornati significa che hanno qualche problema. Parliamo ovviamente di Alva Market, Alva Market è un posto mistico, perché è un posto mistico? Perché unisce l'essenza rustica con la ricercatezza delle materie prime e ti dà la possibilità di spaziare su dei gusti che in Valsassina non avresti mai pensato di trovare, per esempio la piuma di maialetto rustico in Valsassina, ma davvero, oppure un pavone che è lì e continua a fare versi mentre tu sei lì che ti mangi il tuo panozzo in Valsassina, oppure un posto dove puoi mollare i bambini così almeno tu ti mangi un altro panino e arrivi a casa bello paciarotto in Valsassina. Sì, beh, la Valsassina diciamo che si apre un pochino al turismo e Alva Market naturalmente fa parte di questa eccellenza. Di Alva Market abbiamo già visto il Val di Lei che abbiamo utilizzato per fare le encilada, naturalmente non è soltanto salumificio ma anche macelleria. Uno dei prodotti più conosciuti di Alva Market è sicuramente il panino dell'imperatore commovente. anche Giolleno e Yocono l'hanno provato, il panino dell'imperatore commovente. Perché l'imperatore? L'imperatore perché? Perché il pane scompare rispetto alla piuma di maialetto rustico. In Alva il maialetto rustico può essere ben cotto, può essere rosa, può essere cotto dentro il forno a legna che io non ho. Infatti adesso, su pietra naturalmente, infatti adesso che cosa uso? Uso il keg e utilizzo sia la piastra, che ho già provveduto a oliare leggermente, sia le griglie. Vedete che sotto ho messo i miei bricchetti di carbone, che quindi dovrebbero darmi una bella spinta anche a livello di gusto. La piuma di maialetto rustico è questa qui. E capite semplicemente perché il panino scompare rispetto a quello che ci sta dentro il panino. Pensate che sia finita qui? Vi sbagliate. Perché? Perché sopra c'è anche un velo di casera, formaggio che non vi sto neanche a spiegare, che fa a sciogliersi sulla carne, rendendolo un gusto veramente pieno, veramente morbido, ma veramente rotondo. Quindi ragazzi, questo è un panino che adesso facciamo anche noi, così almeno cerchiamo di aumentare un pizzico il nostro colesterolo, ma finalmente anche questa serata di godere come dei maiali rustici. La giusta dose di grasso, la marinatura, vedo del rosmarino e degli altri aromi. Non credo di dover aggiungere nulla alla mia piastra e anche alla mia griglia, che ovviamente andrò un pochettino a oliare esattamente come la piastra. Però visto che noi stiamo conoscendo un partner nuovo, e voglio cercare di ingolosirvi, vi racconto una cosa velocissima. In Alva ci sono tanti segreti, che non sono i segreti di Twin Peaks, cioè non è che arriva Laura Palmer morta e poi risorge, no, no, no. Allora, ci sono dei segreti, le figure mistiche, il baffo, soprattutto al quale dovete chiedere informazioni se non avete capito qualcosa o non avrete capito qualcosa delle spiegazioni mie di stasera. Però diciamo che il segreto, per esempio, non riguarda soltanto la piuma, riguarda la tartare. E la tartare è, da sempre, almeno secondo il mio modestissimo parere, il punto di accesso giusto per una cena, o comunque per un pasto. Quindi noi che cosa facciamo adesso? Andiamo a prenderci la tartare di Alva, l'assaggiamo così o meno, cerco di spiegarvi che gusti sento dentro, la mettiamo su un crostino, aggiungiamo il chimiciurri che, per merito di Ernesto, anche quello è una versione spintina, verrebbe da dire, però ragazzi è stra piena di gusto. Adesso andiamo a recuperare la tartare. Ovviamente la piuma l'ho tolto da una mezz'oretta dal frigo, in modo tale che vada a temperatura un ambiente e mi taglio un pochino i tempi di cottura. Non penso di dover andare a lungo sulla piastra di ghisa, vado semplicemente a bomba come temperatura e vado semplicemente a cuocere, così. Cari commensali vorrei richiamare la vostra attenzione per qualche istante su questa tartare che ha un profumo che si sprigiona subito in tutto il terrazzo e che adesso io vado a prendermi e assaggio, come se non ci fosse un domani. Allora, ricetta segreta? Io ci provo, ci provo. Poi provate ad andare dal baffo, provate ad andare a chiedere la ricetta segreta, così vi butta direttamente nel cammino e siamo a cavallo. Allora, secondo me ci sono pizzico di senape, capperi, vabbè, olio ovviamente, qualche aroma, un po' pepino, un pochino di sale. Vabbè, mi sono già stufato di provare a decifrarmi, la mangio, faccio prima. Questo invece è il famoso cimiciurri, ragazzi. Il cimiciurri, questo è il cimiciurri. E il cimiciurri ha un gusto che, mamma mia, levati. Allora, che cosa facciamo adesso? Andiamo a prendersi il nostro Regal 4,90. Mettiamo il guanto di Parigi. Mi suona il telefono. Alzo i miei bruciatori, intanto la telefonata è finita, era il mio boss, non mia moglie. Ho messo la griglia superiore, perché vado a far ammorbidire, anzi, in realtà, a tostare, che ammorbidire, un pochino di pane. Ho del pane, mi sono appena bruciato, ma fa niente. Ho del pane assolutamente normale, e ho del pane con i semi, mi sembra di segale, insomma, c'è un po' di tutto. Per la bruschetta dovrebbe andare abbastanza bene. Ricordo che questa, in sostanza, è un ingresso, un modo per iniziare la nostra cena, che poi si concluderà con la pluma, o la piuma, se preferite, il maieretto rustico, il pane dell'imperatore. Ok, adesso vado ad assaggiare il cimiciurri, intanto che questo va. Io credo, ragazzi, che questo cimiciurri, sia di ammicidio di secondo grado, con l'aggravante del passaggio, al girone dei golosi. Adesso lo assaggio, attenzione. Ma come è una bomba! È una bomba, perché all'inizio ti aggredisce con eleganza, no? E poi, la nota acida si traduce, in una botta di piccante, che mi esalta. Adesso aspettiamo, e pronti via. Aspettiamo il pane, e poi andiamo a comporre il nostro crostone. Vedete che il pane non è segnato, è semplicemente scaldato, per cui è diventato un pochino croccantino, e lo tocco tutto, tanto ho lavato le mani l'altro giorno, quindi dovrei essere tranquillo. Adesso che cosa facciamo? Andiamo a disporre un pochino di tartare, in questa maniera. e adesso, il giro di chimiciurri. Guardate un po', guardate che spettacolo! Attenzione! Probabilmente intorno a me, state sentendo urle e rumore, io non sento niente, perché sto godendo. Sarabbi! È il momento del maiale! Maiale! Ragazzi, è arrivato il momento, è bella calda la mia piastra, è bella calda la mia griglia, adesso andiamo a metterci un pezzettone di maieretto qua, e lo lasciamo andare, e ne mettiamo un secondo, qui, tanto non si arrabbiano, si stanno un pochino vicini, vicini, per l'ultimo viaggio, e li lasciamo andare, e li curiamo a occhio. ne faccio anche un pezzo, sopra, là, griglia, e andate, andate maiali! Allora, sta andando, veramente bene, non sto facendo neanche troppo fumo, nonostante la temperatura fosse rovente, tra rovente e roventissimo, io intanto che vi faccio vedere, queste immagini, non vi posso raccontare il sapore che si sprigiona, perché purtroppo, non sono ancora riuscito, a trovare un sintetizzatore di aromi, che passa attraverso il von Maus, magari, vi dico che potete seguire i social di Alva Market, su Alva underscore market, su Instagram, oppure su Alva su Facebook, e ovviamente, market, significa anche online, quindi alvatrattinomarket.com, non c'è ancora la carne, ma vi garantisco che arriverà. Sono passati circa due minuti, io vado a girare, perché voglio vedere. Vedete che si è già, un po' colorato, ma naturalmente dobbiamo farlo andare, eh? con grande calma, lo rigireremo ancora. E noi adesso giriamo anche la parte sulla griglia. Grill marks poco pronunciati, ma adesso vedrete che poi ci torniamo sopra tranquilli. Ok, diamo ancora un giro. Vedete che sta cuocendo bene bene. Io ovviamente voglio cuocerla bene, può essere mangiata anche un pochino rosa, ma la voglio ben cotta, perché la voglio un pochino croccante nel panino. Panino, allora, capitolo panino, attenzione, facciamo vedere. Pane qui, purtroppo trovare il pane, potevo anche andarmene a comprare il pane da Alva Marketing, in effetti, invece, francesino, lo andiamo magari a scaldare un pochino qui, e poi lo cuociamo. Giriamo anche la piuma che abbiamo sulla nostra griglia, e continuiamo a far andare. Sono passati circa 4 minuti più o meno. Adesso chiudo anzi, così almeno guadagniamo anche un po' di più a livello di cottura, in diretta, oltre che di diretta, naturalmente a zero, perché l'ho sempre tenuto aperto, non per un motivo particolare. Con un'operazione da gioco delle tre carte, ho continuato a girare i miei tranci, mettiamole così, di piuma. Adesso direi che sono arrivato alla fine della cottura, sembra abbastanza croccante, per cui vado semplicemente a disporre le fette di casera, per farlo un po' sciogliere. La fetta di casera, la vedete, è bella bella sottile, per cui si tratterà di un'operazione che non ci richiederà moltissimo tempo. Ne mettiamo una fetta, per ciascun pezzo di piuma, in modo tale che poi ognuno abbia il proprio panino e non si debba discutere né litigare. Adesso noi chiudiamo e lasciamo sciogliere. Ovviamente la piastra media il calore, per cui qui invece siamo già arrivati alla fine, quindi non vado a pinzare, ma vado semplicemente a togliere. E il panino questo lo faccio fare a primo commensale, così almeno poi mi dirà com'è. Noi puntiamo su quelli. No commensale, magna va! Ragazzi, io mi ritengo soddisfatto così. E adesso ho raccomparmi il mio panino. Vedete che è un panino che potrebbe avere mille interpretazioni, nel senso potrebbe vedere delle aggiunte di salsa, potevamo spingerlo con un mix di spezie, un pochino più tosto, però c'era già la marinata tipica che trovate direttamente in Alva Market. Allora ho detto, no, la prima volta lo faccio così. adesso ovviamente avendo un panino rachitico un po' piccino vado a tagliarmi il mio pezzo in modo tale che lo prenda meglio. Allora è strabuono, il pane era scrocchioso, anche se era chitico. la piuma strabordava, quindi da imperatore commovente. Quindi è veramente eccezionale. Adesso mi vado a mangiare, poi le considerazioni finali. Allora, il panino è venuto così. Lo stavo mangiando mettendo soltanto un pezzo di carne, poi il commissario numero uno mi ha consigliato una roba, vai! Due pezzi. E mezzo al cimiciurri. E mezzo al cimiciurri. E mezzo al cimiciurri che abbiamo mangiato con la tartare. Ragazzi, così diventa mostruosamente buono e maiale. D'altronde, maiale, che cosa ti aspetti? Vabbè, le considerazioni dopo, dai. Abbiamo cercato di raccontare in maniera divertente quello che può offrire Alva Market. Ovviamente non non si limita soltanto a quello che vi ho fatto vedere stasera. Soprattutto se penso alle bresaule, ai salumi, l'onzino, i formaggi, insomma, c'è davvero di tutto. E proprio sul sito che vi ho descritto prima potete trovare questi prodotti di salumeria e anche a livello di vendita formaggi. Come dicevo, arriverà la carne e noi saremo lì pronti a raccontarvela. In chiusura, vi ricordo come sempre tutti i contatti per entrare in contatto. Scusate il pessimo gioco di parole con noi. Luca Chiocciola BBcool.it per tutte le domande che vi vengono in mente sul mondo del barbecue. Diana Chiocciola BBcool.it per tutte le informazioni commerciali. E poi come sempre BB Cooler e il Bordons su Instagram per tutte le immagini delle vostre gregliate. Grazie ragazzi, noi ci vediamo la prossima volta. in una condizione di totale provvisorietà a causa meteo che fa schifo oggi purtroppo ci facciamo comunque dei branzini ci facciamo delle capesante la prossima volta perché mentre va uno fai l'altro e quindi hai anche quel così quello sfizio in più che ti puoi togliere mentre aspetti la portata principale. Capesante in un modo branzino ovviamente in un altro utilizziamo sempre il gas vedrete che ci divertiremo. Alla prossima ragazzi!